Vediamo in questa lezione di ripassare il complemento d'agente o di causa efficiente. Che cos'è il complemento d'agente? È il complemento che indica la persona o l'animale, ma vedremo anche l'oggetto, che compie un'azione espressa da un verbo passivo. Quindi la prima cosa che ti devi ricordare è che il complemento d'agente o di causa efficiente lo troverai solo ed esclusivamente nelle frasi con il verbo in forma passiva. Facciamo un esempio. Abbiamo questa frase semplice. Pino mangia il gelato. Sappiamo che i nostri passaggi sono individuazione del verbo, Mangia, predicato verbale, perché è voce del verbo mangiare. Chi compie l'azione di mangiare? Pino, che quindi sarà il nostro soggetto. Soggetto mangia che cosa? Il gelato, che è il complemento oggetto. Quando abbiamo individuato il predicato, ci siamo chiesti chi compie l'azione di mangiare. E in questo caso la domanda era corretta, perché mangia è forma attiva. Ma noi sappiamo che i verbi transitivi possono anche avere la forma passiva. Quindi, nella forma attiva, io mangio, quindi compio l'azione di mangiare. Nella forma passiva, io subisco l'azione espressa dal verbo. Quindi, nella forma passiva, la nostra frase diventerà Il gelato è mangiato da Pino. Guardiamo che cosa è cambiato. Pino, il nostro soggetto, compiva l'azione di mangiare. Adesso noi abbiamo un verbo, è mangiato, che è sempre il nostro predicato verbale, attenzione bene, ma che è in forma passiva. Quindi non possiamo più porci la domanda Chi compie l'azione? Ma dobbiamo porci la domanda Chi subisce l'azione? Chi subisce l'azione di essere mangiato? Il gelato, che quindi è il nostro soggetto. Quindi, attenzione bene, il soggetto è colui che compie l'azione, ma è anche colui che subisce l'azione. Il soggetto che subisce un'azione, subisce un'azione perché c'è qualcuno però che quest'azione la compie. C'è qualcuno che agisce. Ecco spiegato l'origine del complemento da gente. In questo caso, chi è che agisce? Pino Il gelato è mangiato da chi? Da Pino Complemento da gente Agente significa proprio colui che agisce. Quindi, nella forma passiva, io ho sempre il soggetto del verbo, che è colui che subisce l'azione. E poi avrò un complemento che mi spiega però chi è che la fa quest'azione, chi è che agisce. Ed è un complemento introdotto dalla preposizione da. Da chi? Da Pino Complemento da gente Nel caso in cui il mio agente non sia un essere vivente, ma un oggetto, qualcosa di inanimato, Allora io non lo chiamo più agente, lo chiamo complemento di causa efficiente. Guardiamo questa frase. L'albero è stato abbattuto dal fulmine. È stato abbattuto, è il nostro predicato verbale. Voce del verbo abbattere. È un verbo di forma passiva. Chi subisce l'azione di essere abbattuto? L'albero, che è il nostro soggetto. Una volta che io ho trovato il soggetto e il predicato, però, mi faccio quest'altra domanda. L'albero ha subito l'azione di essere abbattuto, ma qualcuno avrà ben agito? In questo caso io non ho un qualcuno, ma ho un qualcosa, ho il fulmine. Quindi la domanda sarà da che cosa? Risposta dal fulmine. Che quindi non si chiamerà complemento d'agente, ma che si chiamerà causa efficiente. Soggetto, predicato verbale passivo, complemento di causa efficiente.